Musica Buonasera a tutti ragazzi siamo ancora noi Giù per Youtube Siamo tornati anche con le super guide su Bloodborne Ragazzi si parte dal principio come state vedendo ovviamente Cleriki Beast Beh sia clericale Chiamatela un po' come il cazzo vi pare Fatto sta, stato fa Che sto bestione di 3 metri Vuole farci del male fisico A tutti i costi E noi vi diremo come superarlo E come cuocerlo alla braccia Ah ragazzi Partiamo subito dal dire dove trovare questo super boss Ovviamente ragazzi si troverà sul ponte centrale di Yharnam Penso che chiunque abbia già visto Abbia già fatto il primo boss Chiamatela Ma per dare informazioni utili Faremo la guida anche su questo boss Praticamente c'è anche lo shortcut che vi faciliterà la vita Quello nella casa abbandonato con il tito in sedia a rotelle Che sparerà colpi d'arma da fuoco Praticamente sarà molto più facile arrivare a non il ponte Quindi Basterà tagliare la lanterna a quello shortcut E sarete già arrivati praticamente Ma vando alle ciance ragazzi E parliamo di questa enorme Abnorme bestiola Innanzitutto sarà una boss fight Totalmente fisica Quindi aspettatevi di prendere pugnazzi in pieno viso Oppure preparatevi a consumare il tasto cerchio Perché sarà essenziale Come ho detto gli attacchi della cleric beast saranno solo Solamente solo solo fisici Infatti tenterà di colpirvi principalmente con il suo braccio sinistro Che ricorda molto quello di Manus Il padre dell'abisso di Dark Souls Praticamente cerca di prendervi a pugni con entrambe le braccia Spesso concatenando 3-4 colpi Ovviamente potrete essere colpiti anche da singoli attacchi Che però userà molto meno Un altro attacco che userà spesso Soprattutto se voi sarete abbastanza lontani Sarà l'attacco con slancio Nel quale pianterà una mano nel terreno Per poi lanciarsi verso di voi Tentando di schiacciarvi Come state vedendo in questo momento Con l'altra mano Altro attacco molto ma molto utilizzato Sarà il santo in verticale Travite il quale la bestia salterà verso l'alto Uscendo dalla vostra riquadratura Quindi dovrete stare molto attenti Per poi atterrarvi sulla crappa Infine ragazzi Il boss potrà fare la solita presa Che si vede praticamente in quasi tutte le boss fight Abbastanza potente Con la quale vi sbatterà per terra Senza sentire ragioni Facendovi ovviamente abbastanza danni Detto questo Veniamo adesso alla strategia Migliore per affrontare la bestiola Prima di tutto ragazzi Vi consiglio di portare con voi Il massimo di fiale e proiettili Onde evitare situazioni spiacevoli Molto ma molto consigliate Sono anche le molotov Che potete droppare Nel corso del soggiorno a Yharnam O comunque sia acquistarle Nel sogno del cacciatore Per quanto riguarda il combattimento Vi consiglio di concentrarvi Maggiormente sul braccio sinistro E cercare di attaccare Dopo aver scrivato le sue manate Una cosa da non fare Sarà la loccata Infatti ragazzi Non dovrete assolutissimamente Loccare In qualsiasi caso Infatti come state vedendo Dal mio scontro Lo sto tenendo loccato Ma sto facendo Una fatica incredibile Appena si avvicina il mostro È veramente un parto Come state vedendo Un parto Non si vede mai un cavolo Di quello che vuoi colpire E quindi È veramente difficile Quindi Il consiglio che vi do È non loccate O fate Loccate Meno possibile Non evitare Casini con la telecamera In quanto ovviamente L'arena sarà un buco Praticamente È il ponte E spesso Si incastrerà la telecamera Tentando di Di capire Quello che succede E non Non capite più una fega Come vi ho suggerito In precedenza Portatevi con voi Un po' di molotov Molto efficaci Contro questo nemico E avrete anche La possibilità Di stannarlo Si ragazzi Potete stannare il boss Dopo un po' di colpi Sullo stesso arto Egli rimarrà in difeso Per qualche secondo E voi potete Tranquillamente colpirlo State attenti Perché dopo Che arriverà Ad una certa quantità Di energia Usarà un attacco Più o meno Di cura Che ristabilirà I suoi arti E inoltre Entrerà in rage Per un po' Diventando quindi Più aggressivo Una particolarità Di questa boss fight Ragazzi È che se avrete Distrutto in precedenza Padre Guascone Padre Gascogne Potrete evocarlo Nella boss fight E quindi Vi faciliterà Molto Di molto Il lavoro Perché sarà Molto aggressivo Anche se toglierà Abbastanza poco Alla belva Però comunque Se ha uno che distrae Il nemico È sempre utile In questi casi Con il nemico Molto aggressivo Quindi Se volete Facilitarvi la vita Evocate Padre Gascogne Dopo averlo battuto Ovviamente Inoltre ragazzi Potrete convocare Nella boss fight Anche Alfred Che l'avrete Precedentemente Incontrato A Catedral World Una volta che Avrete Inflitto Il colpo finale Alla Cleric Beast Otterrete Ben 4000 Echi del sangue E anche Lo stem Da cacciatore Con spada Ragazzi Ovviamente Il trofeo Bene ragazzi Spero che Questo video Vi sia stato utile Mettete un mi piace Commentate Condividete Noi ci vediamo Al prossimo video A paura su Bloodborne E anche alla prossima guida Su Padre Gascogne E allora Che dire Buona a tutti ragazzi Woohoo